Ciao a tutti, voglio parlare in questo video di tecniche di coinvolgimento affettivo. Allora, è importante coinvolgere, ma è anche importante imparare a decoinvolgersi quando ci sono situazioni che ci generano sofferenza, oppure situazioni in cui proviamo un malessere, un senso di vuoto, un senso di inadeguatezza, insomma, quando si sta male nelle relazioni sentimentali, oppure quando si viene traditi, quando viene offesa la dignità, insomma, ci sono tante situazioni. L'unico modo per decoinvolgersi, intanto dobbiamo capire che se siamo coinvolti è perché riceviamo delle emozioni pur polpette avvelenate da chi ci sta coinvolgendo in quel momento. L'unico modo effettivo, reale, per decoinvolgersi è quello di imparare a coinvolgersi con se stessi, imparare fondamentalmente ad amare se stessi, mettere se stessi la propria dignità davanti a tutto il resto. E per fare questo bisogna fare un percorso di crescita interiore, spesso non avviene automaticamente. Quindi la miglior tecnica, le migliori tecniche di decoinvolgimento consistono nell'imparare a dialogare, ad entrare in contatto con la propria sfera emotiva. E possiamo entrare in contatto con la nostra sfera emotiva, si chiama sfera emotiva perché riconosce il linguaggio delle emozioni, attraverso il linguaggio delle emozioni. Quindi imparare quotidianamente a somministrarci la nostra dose di emozioni quotidiane. Potremmo dire che la preghiera sarebbe dacci oggi le nostre emozioni quotidiane. Quindi dobbiamo imparare che lo stile di vita è importante. Come diceva Franco Battiato, non esistono tranquillante o terapie, ci vorrebbe un'altra vita. Perché poi le persone magari cercano di anestetizzare il tutto attraverso tranquillanti, attraverso cose di questo genere. Ma se l'origine del male, diciamo, non viene modificata, cioè lo stile di vita, che è uno stile di vita non emotivamente appagante, è difficile che poi la persona riesca a vivere una situazione di benessere. Spesso non si è malati, si è soltanto infelici. E quindi è importante capire che il modo in cui viviamo, i valori che abbiamo, le credenze che abbiamo, ciò a cui diamo importanza è fondamentale. E noi stessi, per noi stessi, dobbiamo essere importanti. Questo è un percorso che va fatto gradualmente. Non è detto che vada fatto completamente, ma va fatto gradualmente. Di insegnare piano piano la nostra sfera emotiva a concedersi, a concedergli anche delle piccole emozioni quotidiane. Prendersi un impegno. Un impegno con se stessi di ogni giorno fare qualcosa che ci possa emozionare. Piano piano in questo modo si creerà una sorta di alleanza. Si creerà una sorta di alleanza tra noi stessi e la nostra parte emotiva. Noi stessi, cognitivo, logico, razionale, con cui ci identifichiamo, la nostra sfera emotiva. E piano piano, quando avviene quest'unione, ci si decoinvolge da altre situazioni che invece hanno generato malessere. Quindi prendersi cura del proprio bambino interiore, attraverso delle emozioni, è il modo migliore per decoinvolgersi da situazioni negative. Questo richiede però una costanza, un impegno, una volontà. La volontà è il muscolo della mente. Dobbiamo allenarlo e quotidianamente dobbiamo imparare a modificare il nostro stile di vita in modo emotivamente positivo. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose. La prima è che venerdì 24 febbraio terrò a Torino un corso su come coinvolgere gli altri attraverso le emozioni. A Torino, in corso 3013, presso l'Educatorio della Providenza alle ore 20.45. Chi è interessato o interessata, il riferimento è 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale, parteciperai all'estrazione di corsi gratuiti con me che potrai scegliere se fare dal vivo o via video. Quindi iscriviti al canale. Ciao!